cos'è? vai 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 oh cazzo cazzo è? cazzo Willy male? ma vai sei un brio michia, attenzione dai davanti li vado malissimo scendi scendi da qua ma sei un coglione coglione se puoi sparare col cecchino prendimi e ti arriva un rpg in faccia il rpg in faccia la medaglietta dammi la medaglietta proggio così impari a spararmi la medaglietta la medaglietta la medaglietta la medaglietta la medaglietta gli ho rubato l'elicottero 3 del proggio l'elicottero cazzo, va con la barchetta lì in mezzo la barchetta che spara in mezzo l'acqua dai, non l'ho ammazzato ah, poi sei morto, eh ciao ciao vai angelo, vai angelo 4-4 ah, 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 beccati questo beccati questo proprio elicontro oh, cazzo per lo madre mi ha sparato l'impossibil sta merda adesso lo so, lo so, lo so fitto cazzo a questo delicontro ok, vado il elicontro e l'elicottero non era più a sua parte vai affanculo dai bello dai bello dai bello elicottero 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 questo sto schiacciando con l'aereo dai 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 ahahahahahahaha prendi questo in mano ahahahahahahaha ahahahahahahaha ahahahahah grazie grazie